Mi chiamo Fabio Trabucchi, sono director di In-Store Factor, una società di ricerca di mercato, comunque un'agenzia specializzata nell'analisi del retail e della shopper experience. L'intervento di oggi è un estratto di una ricerca di mercato che è stata svolta in un aeroporto, un'indagine sviluppata attraverso un questionario somministrato ai viaggiatori dell'aeroporto proprio per capire come le persone oggi vivono il viaggio e l'esperienza del retail all'interno di strutture di viaggio. Quindi l'aeroporto ci è sembrato il miglior esempio, perché forse più ricco di stimoli e più interessante, più innovativo nel mercato odierno.